aaah Ma vai a fare in culo va pido cro' Dio ma quante persone devo fightare? QUANTE PERSONE DEVO FIGHTARE??? Basta andiamo a vedere il tiktok Non ce l'ho dato il cazzo Flammata Dai dai faccia qualcuno E che woman madre di dios Dai tu me la casi Madre di dios Carlo scrive fantastica Ma poi sono tutte attrici porno queste Sono tutti fake Questo secondo me Guarda i porno senza Senza i cookie Grazie per i prime Grazie piccolo per la sabettina livello 1 Account creato 30 dicembre 2021 Quindi è veritiero grazie Dai ti prego su lei ci sarà un commento Sei perfetta sei bellissima Dai dove sono le tipe Porco dio Ma che è morto di figa per i commenti brutto idiota Per i commenti dei vecchi che andiamo a vedere il profilo Per il content ma che cazzo è morto di figa Ragazzi Buongiorno bellissima No non ha video Dai dai qua c'è qualcuno Amur Questo è rimasto quando si ballava Ma cos'è una mosca poi Con un vesuvio in testa Ma cosa sto vedendo Ma con tanta bellezza Poi adesso che non ci faccio niente Mi dai quel baule gigante Ma poi vuole anche che le tiro le monetine Ma sei ancora malta Pietro Pietro Questo bisogna farci un video su tiktok per forza Ditemi che c'è l'ai Guardate lentamente signori guardate Che cosa sto facendo eh Niente ma lo sto facendo molto bene Sì l'ai da questo Questo è assolutamente un video eh sappia La tua bellezza Cancella una cicatrice Però questa è una foto Ragazzi ci siamo Giuseppe sei bellissima Adelante 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 Ma sembra quella delle show Non vedo Non vedo boomer ragazzi Ci sono solo le tipe che scrivono se Vuoi sposarmi Ok come vuoi amore Mi sfaciamo si belle Davvero bellissima Buon inizio settimana Nooo me la stavi gasando bro Era il commento che stavo cercando Buonasera No Raffaele Diretta direi Merda Questo è un controllore palese Sono coglione Ho visto Nooo no no ragazzi Ho capito dopo il video No bruttissimo 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 Ho aperto il video sbagliato Bruttissimo Merda Ragazzi ditemi chi vi ricorda Vi prego Ditemi chi vi ricorda Cosa bicio Ma come il penguin Ma tu bestemmiaresti per mille euro? Per mille euro Mille euro bestemmio da qua A 2045 Il Danielone Non ti sei spaventata? No A chi ora arrivano gli amici tuoi E tu perché li sei visti da cornuto? Sono un diavoletto Ma Ma Sì bravo Buonasera a tutti Ciao bello mio Di che cosa li sei visti? Da Damer Di chi? Damer Ah berda Nostro capellino Damer Ah no io non li conosco Ma che cazzo ho appena visto? Questa non è da vedere questo Che ti faccio? Ho scommesso 10 euro con il mio amico Che mi avresti dato il tuo numero Ti va se mi aiuti a vincere questa scommessa? Io non le faccio mai queste cose Cioè ti giuro è la prima volta Infatti sono imbarazzatissimo Ti va? Grazie Vai a lato davvero? Ti giuro è la prima volta C'è un battista bianco Scrive è la terza Merda questo No scusa zio non volevo Te lo giuro non volevo aprire il tuo profilo Te lo giuro non volevo aprirlo bro Scusami Ti metto che se mi facevo toccare il sedere Buongiorno User Pasquale Io li adoro Ste persone le adoro Merda Peaky Blinders Spettacolare Spettacolare ragazzi Ma io mi chiedo La prof di francese Che cazzo di video ci fa vedere Arriva un cinno che fa Alla mamma Cucu Cucu un cazzo Porca di Ma io Aspetta sembrava snagher dal dream Ma? Beh signora Un parcheggio un po' Un parcheggio alternativo signora Il film Titanic La distanza tra le ringhiere Cambia da una scena all'altra C'è pure chi dice che sia stata girata In due navi diverse In una scena di Ma non è girato nella piscina Titanic Jack Sparrow Johnny Depp Spunta la scritta Adidas In aria La fare la stessa forchetta In un Perda il pirata Il pirata targato Adidas Spettacolare In molte hanno affermato Che in una puntata Del trono di spade Sia stato ripreso Un bicchiere di Starbucks In una puntata di Spongebob Possiamo notare Mr. Crado Completamente Senza gambe Errori nei film Perda Hai visto la scena Dio Che cazzo vuoi Che cazzo vuoi Capo La madonna Cosa fare in caso di attacco nucleare Ti prego Cosa facciamo Sei morto Ah ecco Ma se ti trovi Non troppo vicino All'esplosione Improvvisamente Vedi un lampo Estremamente luminoso Quanto il sole Buttati a terra Sdraiati a faccia in giù Metti pollici Nelle orecchie Le dita negli occhi Respira con i denti serrati Aspetta che due onde d'urto Passino sopra di te Se rimani in piedi Rischi di farti esplodere Polmoni Timpani E altri organi Abbiamo fatto la stessa cosa Quando Efesto è caduto dalla sedia No Dio cane Lo sai anche